ah il salto lo fa solo in fase 2 malandezza 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 Cazzo era quell'attacco Ero convinto che fosse la magia Cazzo amico fine? fine? è morto? tu resti... tra gli occhi dai! dai! bello, molto bello questo tentativo mi sono cagato tanto sotto sulla schivata battuta adesso, si freddo sulla schivata prima dell'esplosione quando lo cura ho cercato di fargli i più danni possibili e ho detto, cazzo, troppo che esplode, troppo che esplode troppo che esplode, troppo che esplode e poi sono riuscito a rollare tipo nel penso l'ultimo centesimo di secondo possibile bel fight bel fight, si veramente bello come batti i tappeti si, gran gran bel try ragazzi sono veramente euforico ragazzi, sono veramente euforico bene, anche questo è andato tempistica di un'oretta tendenzialmente meno poco meno di un'ora 50 minuti si corrodono i salvataggi cazzo, è acido e oltretutto penso che in questa zona non ci sia più niente non ci sia modo di proseguire da questa zona quindi no torniamo in quel dell'altare del vincolo si, comunque il piccolino lo aprivo eh il piccolino lo aprivo proprio sono veramente euforico di farmi arrestare all'evento dell'area 51 parlare molto bene allora parlare di Nari l'imbo è gratuito anche su PlayStation Now i orm l'abbiamo fatto e gli ho messo il coso guardiani dell'abisso l'abbiamo fatto e gli ho messo il coso l'Othric is the last Ludlet è qua ah no, forse è l'Othric ah si è l'Othric ah si è l'Othric per molti anni in the deep hole io lo vedo in te questa è per è una chain quest che ti da una emote poi quando faremo la keyment l'andremo a fare eeeh i 5 lords sit i 5 thrones tutto grazie a te il più vero dei lords Ashen One Ashen One quindi devo inginocchiarmi di fronte a questa per accedere probabilmente all'area del prossimo boss si si lo platiniamo certo bene signori io me ne ho mangià con molta felicità che sono riuscito a battere anche 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 quei due tizi lì eeeh no ma in realtà non devo neanche abbandonare siamo così vicino alla guardiana e niente grazie mille a tutti per la partecipazione grazie come sempre a tutti i nuovi follower e ci vediamo dopo alle due e mezza sono qua con con la continuazione con tutti i finali certo si 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 infatti dovremo fare New Game Plus un paio di volte almeno ma ce l'ho la emot carina per sdraiarmi eeeh no ho sbagliato cazzo stavo per fare qualcosa stiamo lontani da quel falò prima che scambia questo eccolo lì è stremato va da pranzo raga ci vediamo dopo ciao ciao